Come abbiamo ben letto più avanti, confermeranno un personaggio molto importante. Secondo voi, può essere Dylan O'Brien o Daniel Sharman. Dylan O'Brien aveva rifiutato il BHP2, ma con questo evento ancora non abbiamo notizie, perché questo evento si terrà a ottobre. Questo evento si chiama BHHS. Secondo voi, cosa ne pensate?